SIGLA Chi ti tocca stasera, eh? Beh, stasera mi tocca Rick. Nervosetto. Ho capito una cosa. Gli Ollie non staremo mai insieme. Boss chiama Abdul. Cappuccino e cornetto. Mi dici che senso che ha, eh? Che mi parla con Tolkien Walk, che sento parlare di qua. Ridammelo. Hai visto il mio libro di ricette? Guarda in forno. Forno? Forno. È appena uscito il nuovo romanzo di Michelle. Non so se l'hai saputo. Fantastico, li ho letti tutti. Guarda caso è lo scrittore preferito di Ollie che guarda caso sbava per lui e che guarda caso adesso si trova qui. Non sapevo. L'amore. Che cos'è l'amore? E l'amicizia? Che cos'è l'amicizia? Vorrei proprio sapere chi legge ste porcate. Muovi di sta spiaggia nostra! Eccomi! Ma lì! Senti, andiamo via. Non voglio che mi becchi qui con te. Ma papà! Ma mamma! Ma che ci fai qua? Nicione! Ma tutti qua! Ma che fate qua? No, che ci fai tu qua! Na Dumont! Ma che c'è! No. Ma che c'è? Grazie a tutti